Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata, spinto dalla necessità di recuperare delle risorse, tra cui della redstone, ho deciso di esplorare una caverna che avevo trovato nella palude. Scendendo nella caverna ho trovato però questa miniera che mi ha permesso di recuperare un sacco di risorse. Infatti nel mio inventario ho ben 17 diamanti, un po' di redstone, parecchio ferro e anche un po' di oro, non moltissimo. Ora sono qui ancora nella miniera e ho deciso di esplorarla ulteriormente nella speranza di trovare ancora della redstone. Per fare questo però dobbiamo come sempre scendere il più possibile. Ne ho vista un po' nell'altra puntata, vicino a un lago di lava, quindi nel caso non dovesse trovarla nei dintorni cercherò di recuperare quella che avevo visto. Ora vediamo pure di continuare qui l'esplorazione, qualcosa avevo già, come vedete, esplorato e trovato, ora sto cercando di andare in altri posti non ancora visitati per vedere se trovo qualcosa. Innanzitutto vi voglio comunicare che abbiamo superato i 2400 iscritti, un po' che non lo dico, chiaramente non ho ancora potuto aggiornare il diario degli iscritti, lo farò appena sarà possibile quando sarò tornato a casa, nella speranza di tornare a casa sano e salvo, perché come avrete visto nello scorso episodio girare in queste miniere è piuttosto complesso e anche molto difficile, perché ci sono moltissimi mob. Ora vediamo di andare ad esplorare qualche altra parte ancora, dove è buio, quindi non ho ancora visto, recupero sempre il rotaio, oh qui c'è del feo, ecco, cominciamo subito con gli scheletri. Allora mi avete dato alcuni consigli su come cercare di uccidere i vari mob, soprattutto gli zombie perché, come avete visto, attaccano a gruppi. Dunque io sono andato un pochino a informarmi, perché mi avete detto dove devi usare l'arco invece che la spada perché altrimenti spawnano, io questa cosa sinceramente nel wiki non l'ho trovata. Oltretutto questa faccenda dello spawning di mob quando vengono uccisi, soprattutto appunto zombie, avviene solamente in modalità hard o hardcore. Quindi io sono in modalità normal, quindi questa cosa non dovrebbe essere così. Quindi non so che dirvi, gli zombie compaiono comunque così a ondate e quindi cercheremo di stare molto molto attenti. Dunque procediamo su questo corridoio che finisce qua. Ho visto allora lì che si poteva scendere, provo a buttarmi giù, a vedere un po' dove si va. Allora. Opla. Qui. Uhuh. Ai 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 ai. C'è un altro scheletraccio qua. Questo lo prendiamo così. Adesso sto cercando di usare l'arco così evito il corpo a corpo. Bene, bene. Procediamo. Uh, vedo della lava lì. Potrebbe essere interessante se c'è della lava. Ecco, cominciano gli zombie adesso. Ok, dai dai fuori dalle scatole tu. Qui vedo... Uh, quanto ferro. Uh, si scelta. Ah, qui sono già passato? Ah, forse... Forse è il punto dove ho recuperato i diamanti lì sotto. Mi sembrava abbastanza... Abbastanza familiare quel posto lì. Aiuto, aiuto. Cominciano ad attaccarmi pesantemente adesso, eh. Ma no. Ok. Ok. Devo illuminare il più possibile. No! Creeper! No, no! Ce la devo fare! No, no, no! Ah, esploso. Aiuto! Incominciano gli attacchi ad ondate. È vero, qua sono proprio dove c'erano... Allora, la redstone l'altra volta. Allora, io prima ho lasciato indietro del ferro che voglio andare a recuperare, altrimenti... Allora, ce n'è un po' qua. Ecco, no! Ho sentito un altro creeper! Ma basta! No, creeper! No, creeper! Ok. Aiuto. Ok. Illuminiamo qua. Oh! Qui si scende, eh. Ok. Ah, un attimo di tranquillità. E recuperiamo subito questo ferro. Probabilmente dovrò svuotare l'inventario con delle cose inutili. Perché sono strapieno. Quindi... Ok. Qui ho preso tutto. Poi ce n'era ancora qua dietro. Qua in alto. Ok. Perfetto. Piazziamo una bella torcia qui. Ok. Uh! Ok, abbiamo preso qui. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Cercando di non finire nella lava. Possibilmente. Rompo un po' così la roccia per vedere che non ci sia dietro qualcosa. Ah! Oro! Un po' di carbone che non prendo. Uh! Enorme sta grotta! Enorme! Allora, prendiamo l'oro. Ok. Non serve a molto, ma... Vabbè. Già che ci siamo. Ok. Qui l'abbiamo preso. Perfetto. Andiamo a vedere di qua. E ho ancora fame. Allora. Perfetto. Ok. Anche qui sono già passato. Ah, è dove ero prima, è giusto. Qui c'è il ferro. Bene, bene. Però, purtroppo, redstone non ne vedo. Questo non mi piace per niente. Mi sa che sarò costretto a fare un'operazione molto delicata e di andare sulla lava a cercare quello che avevo visto. Ora ho finito le torce. Dunque, devo farmi degli stick. Ok. E facciamoci le torce. E sì. Ok. Perfetto. Posso buttare via questo. Ok. Procediamo. Un altro creeper. Due creeper. Via via tutte e due. Ho preso anche il pipistrello nel frattempo. Ok. Qui si scende ancora. Un po' di esperienza. Quanto ferro. Molto bene, molto bene. Però, redstone, niente. Nooo, creeper più scheletraccio. Li prendiamo così. Vai via, vai via anche te. Mi dai fastidio. Ok. Qui è il lagato. Qui è il lagato. Passiamo. Via. Ok. Siamo un po' troppo in alto, secondo me, per recuperare la redstone qua. Purtro... Ancora la maniera? Nooo. Ce n'è un'altra qua, non mi dire. Oh! Oh! Un canyon? No, no, no. Ragazzi, qua la faccenda si fa complessa. Io però vorrei trovare la redstone perché voglio anche tornare a casa. Se no, come facciamo a continuare la nostra esplorazione? Scusate, le nostre costruzioni. Eeeh! Miniera lunghissima qua. Ma... Guardate un po'. Mamma mia, c'è un canyon sotto. Pericolosissimo. Sento anche molti ragni, quindi penso che ci sia un spawner di ragni velenosi qua. Molto nelle vicinanze. No, guardate il canyon! Che spettacolo! Che spettacolo di canyon! Sì, sì, ma lì non mi ci butto di sicuro. È veramente gigantesco. Ho finito il... Wuhu! Nooooo! Ragazzi, cosa è successo? Non sono riuscito a saltare! Mi sono spaventato tantissimo. Mi sono visto morto! Incredibile. Come sono sopravvissuto non lo so. Mamma mia, sono rimasto... Basito. Madonna che spavento. Allora, prendiamo la redstone. Ok, quella che volevo. Beh, a sto punto... Che rischio, ragazzi! Che rischio! Uuh, quanta redstone! Oh, incominciamo a ragionare. E prendere anche quella lì, però ho paura dell'acqua. Vediamo se ho qualcosa che posso usare. Si può usare anche questa, la ghiaia. Devo andare a chiudere quest'acqua, ma ho paura che non si riesca. Vediamo un po' se riesco a tappare qua. Ragazzi, io non so come ho fatto a sopravvivere lì. Ah! Adesso sì che ragioniamo. Oh! Guardate qua che roba! Pazzesco. E anche bella profonda. Bellissimo! Eccezionale! Oh, guardate qua, bella comoda. E questa sì che vuol dire prendere la redstone. Ho finito anche l'inventario, devo buttar via qualcosa. Butto via la stringa di ragno che ne ho tantissima. Ok. Uh! Ragazzi! Quanta redstone! E adesso però dovrei riuscire a tornare su. Come faccio? Vediamo di lì dove si va. Sempre stando attenti alla lava. Fantastico! Uh! Quel ferro qua. Adesso sto usando anche il piccone sbagliato. Devo farmi un piccone e non ce l'ho. Non ce l'ho un altro piccone. Sì, ho questo. Sì, ho questo. Usiamo questo, dai. Ci metterò un po' di più, ma non voglio sprecare picconi di diamanti per il ferro. Uh! Ragazzi! No, sono ancora veramente spaventato dal volo che ho fatto. Non so come ho fatto. Mi sa che questa è la fine del canyon. Pazzesco! Devo tornare su. Adesso come faccio? Allora, vediamo un po' qua se non c'è altro di interessante. Credo di no. A questo punto devo recuperare qualcosa per risalire. Beh, posso usare la cobblestone? Sì, ne ho tantissima. Vi faccio una bella torre di cobblestone e salgo. Ok. Che volo che ho fatto! Se andavo un pochino più in là, o finivo nella lava, oppure morivo per il colpo che ho preso. Vabbè, lì c'è il ferro, però forse è abbastanza brutto da prendere. Mamma mia che volo! Vabbè, però abbiamo recuperato la redstone. Bene ragazzi, credo che farò ritorno a casa a questo punto. Torneremo sicuramente più avanti ad esplorare questa parte perché c'è veramente un sacco da vedere ancora. Sì, sto prendendo ancora carbone perché così ne ho un po' ancora. Comunque di redstone adesso ne ho presa veramente tanta. Ho preso praticamente due stack più dieci, quindi già ne avevo un altro paio di stack a casa. Benissimo ragazzi, credo che questa esplorazione, nonostante il grande rischio, sia stata veramente utile. Ora l'unica è ritrovare la strada del ritorno. Scusate, questo gioco di parole. Ecco, questo è il punto dove ho visto l'altra redstone. Esatto, qua. Però è veramente troppo in là. Ok, qui c'era questo blocco qua che mi avete detto. Guarda che diamante. Se vedete bene è giallo e quindi è assolutamente oro. Quindi non dovete assolutamente preoccuparvi che l'ho lasciato indietro. E là in fondo c'è del ferro, anche qua. Però qui ragazzi è molto pericoloso, eh. Ho anche un sacco di diamanti. Voglio andare a vedere cosa c'è di qua. Mi sa che c'è ancora lava. Oh. Eh, guardate lì un diamante! Nooo! Un diamante ancora! Subito lì bisogna andare. Uno, uno! Ce n'è, c'è, c'è, c'è il diamante, c'è il diamante, c'è il diamante. C'è il diamante. Eccolo qua. Allora aspettate. Mi sa che è uno solo. Allora aspettate, devo mettere la cobblestone qua. Altrimenti... Cado giù. Allora, facciamo così. Ok. Adesso usiamo il piccone di diamanti. Non ci credo un altro diamante. Uh! Eh, solo uno me ne ha dato. Che sfortuna! Che sfortuna! Qui invece... Ah, qui non c'è più niente, dai. Ok. Vai, abbiamo recuperato un altro diamante. Di qua dove si va? Ah, ma... Che... Era proprio dove avevo recuperato la redstone un'altra volta. Che roba! Non l'avevo visto. Vabbè, meglio così. Bene, allora a questo punto so dove andare per tornare a casa. Se riesco, perché... Sono un po' agitato. Ok. Qui mi hanno lasciato un po' in pace i mob, fortunatamente. Qui torniamo sempre allo stesso punto, ma a questo punto direi che torniamo a casa perché siamo pieni, pieni di roba e non vorrei morire. A questo punto sarebbe veramente tragico. Recupero l'ultimo... Un po' di rotaia ancora, visto che sono qua. E poi mi sembra che questo è il punto dove mi ha buttato giù lo zombie l'altra volta. No! Ma porca miseria! Che spavento! E devo anche mangiare. Mamma mia! No, no, ragazzi, è troppo pericoloso qua. Anche se ho la tentazione di andare avanti, eh. Oh, no, 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 no! Basta, basta! Ho già fatto la tua conoscenza troppe volte. Uh, ce ne sono due! No, 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 lasciamo stare. Mi stanno aspettando al varco. Ragazzi, faccio il ritorno a casa. Mi dispiace, ma... Ho troppo... Sto rischiando troppo e... Se muoio adesso con tutti questi diamanti che ho recuperato, mi arrabbio. Quindi... Faccio luce, sennò non vedete nulla. Ecco qua. Uh, dovrebbe essere qua il punto, sì. Oh, guardate qua! Non avevo visto anche questo gran ferro. Del gran ferro! Uh... Ragazzi, che esplorazione! Che esplorazione! Non potete assolutamente lamentarvi di questa esplorazione. Ma dov'è che devo andare per salire ancora? Oh, no! C'è anche un altro... No! Il creeper dov'è? Devo prendere il ferro, però. Devo prendere questo ferro. Non posso lasciarlo qua. Ok. C'era solo questo, sì. Torniamo su in fretta. Ah! L'altro creeper! Via, 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 via. Via, 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 via. Dovrebbe essere da queste parti. L'uscita. Non era lì? Forse sì. Sì, perché mi sono buttato giù. Ok, dai. Facciamo così. Ah, sì. Ah! Questa dovrebbe essere l'uscita, no? Non è l'uscita. Voglio l'uscita! Sì, sì, è qua, è qua. Lo sento. Ecco, sì! Uh! Sono uscito da questa dannata roccia. Scusate, grotta. Uh! Sento anche delle slime ball. Potrei anche prendere quelle. Scusate, delle slime. Tanto adesso... Ah! Sono fuori. Mamma mia, ragazzi, che rischio. Cosa butto via? Posso buttare via la carne marcia? Perché non ho i funghi, tanto che me ne faccio. E posso andare a prendere un po' di slime ball. Ma sì, dai. Un po' di slime ball fanno sempre bene. Ah, le... Che poi servono per i pistoni appiccicosi, non ce le ho. Oggi facciamo proprio il pieno di tutto, eh. Spero che vi siate divertiti in questa esplorazione perché ho fatto veramente di tutto e di più. Non so dove sono le altre... Ah, eccole qua. Ok. Ce ne sono un po'. Credo di aver preso una marea di slime ball, tanto che non ho più spazio. Ah, perché ho preso le lily pads. Ok. Recuperiamo le slime ball. Ok. Guardate quante ce n'è. Anche quelle che ho lasciato indietro prima. Le lily pads possiamo lasciarle lì. Voi due mi date fastidio con questo rumore. Eeeh, quante slime ball. Questa spada oramai è quasi terminata. Devo riuscire a recuperarne... A sistemarla. Adesso andiamo a casa. Ok, basta. Quante slime ball? 39. Direi che possiamo fare pistoni appiccicosi per un bel po'. Bene. Andiamo di corsa. Se ci riesco. E torniamo a casa. Mangio un'altra bistecca. E facciamo il punto della situazione. Dal prossimo episodio riprendiamo con la costruzione del... Mamma mia, un'altra slime ball. Della costruzione del laboratorio delle pozioni. Perché devo terminarlo. Al più presto in modo da poter avere altre pozioni. Inoltre faremo sicuramente una bella armatura di diamanti. Perché, visto tutti i diamanti che ho... Oh, molto bene. Siamo finalmente tornati a casa. Vedo il mio orto. Il mio laghetto. Il mio laghetto. Ah, la mia casa. Wuhuuu. Evviva. Sani e salvi, ragazzi. Adesso facciamo il punto della situazione. Allora, andiamo subito nel magazzino. E vediamo un po' di smistare le cose che abbiamo recuperato. Allora, redstone. Uno, due stack più un altro po'. Quindi abbiamo tre stack, quasi quattro. Non è male. Poi abbiamo diamanti. E qui ne abbiamo un sacco. Cinquantasei ne avevo e ora ne abbiamo sessantaquattro più dieci. Quindi abbiamo abbondanza. Un po' di lapislazzuli. Un po' di lapislazzuli. Un po' di oro che, vabbè, non è che mi serva tantissimo. Però lo prendiamo lo stesso. Un sacco di ferro, ragazzi. Sessantaquattro più venti. Quindi ottantaquattro blocchi di ferro e quattordici d'oro. Che però ho su. Poi mettiamo qua le rotaie. Anche qui una quantità assurda di rotaie. Costruiremo magari al più presto una bella ferrovia da qualche parte. Ho già spoilerato a qualcuno che vorrei farla nel nether. Magari per raggiungere la fortezza. Ma credo che sia un'impresa abbastanza difficile. Bene, finisco ora di smistare tutte quante le cose che ho recuperato. E ovviamente questa volta ci vediamo sulla torre della casa per i vostri commenti e domande. Ed eccomi qui per rispondere alle vostre domande. Oggi ne ho scelte due molto gettonate tra i commenti. La prima è la seguente. Tec, quale genere di videogiochi ti piace di più? A quale altri giochi ti piace giocare oltre a Minecraft? Domanda che mi è stata posta da FullColored, MrPack965, OmarLeone99, Darkfire4Player. Vi ringrazio ovviamente per questa domanda e mi scuso se ho dimenticato qualcuno. Dunque, riguardo al genere di videogiochi che preferisco il discorso sarebbe molto lungo. Perché nella mia carriera videoludica ho giocato veramente tutti quanti i generi possibili e immaginabili. Parliamo di quelli che amo di meno che sono i giochi gestionali e i giochi di strategia. Questo perché richiedono un pochino più di tempo per essere giocati e un pochino più di ragionamento. E non sempre ho tutto questo tempo da dedicare. Mentre invece, se parliamo dei generi che preferisco, direi sicuramente mi piacciono molto gli FPS e i giochi d'azione. Parlando di FPS, il solito Call of Duty, Medal of Honor, magari Call of Juarez, mi piace molto. Ho giocato tantissimo anche online ad Real Tournament. Quindi, come vedete, anche il genere stesso del videogioco passa dal guerra mondiale al gioco futuristico. Poi, un altro genere che amo molto sono le simulazioni di guida e anche i giochi arcade di guida. Quindi, per quest'ultimi, sicuramente Need for Speed o Burnout è un gioco che mi piace molto. Mentre invece, per quanto riguarda le simulazioni, ho giocato parecchio a R-Factor, che è un gioco di simulazione molto realistica su PC. E, per quanto riguarda le console, ho giocato parecchio a Gran Turismo su PlayStation 3. Poi, un altro genere che mi piace molto sono i giochi e gli RPG. Anche se per questi non riesco a dedicare moltissimo tempo. Recentemente ho giocato, ovviamente, a Skyrim, che secondo me è un gioco molto molto bello. Non ho potuto ancora finirlo, perché poi sono subentrate altre cose, tipo appunto i video su Minecraft e su Cubeward, eccetera. Quindi riesco a dedicarci poco tempo. Poi, per quanto riguarda invece lo smartphone e i tablet, mi piace giocare a dei puzzle game. Che sono giochi, diciamo, che richiedono poco tempo. Possono essere giocati per pochi minuti. E quindi, quando ho un attimino di tempo libero, prendo in mano il mio tablet e incomincio a giocare. Ci sono anche moltissimi altri generi che mi piacciono. Ma spero che vi ho dato un riassunto abbastanza esaustivo di quali sono i generi che preferisco. Ovviamente, adesso, sto giocando a Cubeward che, se vogliamo, è una via di mezzo tra un gioco d'azione e un gioco RPG. Bene, passiamo ora al secondo commento, che è veramente stato uno dei commenti più gettonati degli ultimi mesi, che è il seguente. Quali programmi usi per registrare e montare i video che fai? Non ho messo nessun nome perché avrei dovuto fare pagine e pagine con i nomi e, ovviamente, non ho avuto nemmeno il tempo di scriverli tutti. Dunque, per registrare i video utilizzo Fraps e gioco sempre alla risoluzione di 720p, quindi 1280x720, in modo che, quando vado a renderizzare il video per poterlo caricare su YouTube, impiego molto meno tempo. Mentre invece, per quanto riguarda il montaggio degli spezzoni video, utilizzo Windows Movie Maker e lo utilizzo anche per renderizzare il video in Windows Media Video e uploadarlo quindi su YouTube. Se volete sapere più o meno la dimensione dei video, ci aggiriamo intorno al gigabyte per una ventina di minuti di video. Poi dipende anche se il video è molto movimentato oppure no. Mentre invece, utilizzo un altro programma che è Vegas Video per poter montare le sequenze un pochino più complesse, quindi dove c'è magari un'elaborazione del video o una colonna sonora da aggiungere. Bene, spero di aver risposto in modo esauriente anche a questa domanda, visto che me la fate in tantissimi. Vedo che il sole sta tramontando in Minecraft, quindi è giunta l'ora di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao a tutti!